Bella a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovissimo video, in una nuova postazione Oggi faremo Mentos, più Coca Cola Esperimentos, un esperimento italiano Quindi guardatevi il video e lasciate un bel like Questi prodotti italiani Che raga, metteremo non una, non due, non tre, ma ben cinque Mentos E ora passiamo allo slow motion nutritivo Iniziamo ad aprire e ci becchiamo allo slow motion nutritivo E ora ragazzi, con solo tre Mentos E metteremo sempre nella Coca Cola, ma stavolta terremo il tappo chiuso Quindi, bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok raga, ora con quattro Mentos Anzi facciamo cinque che è il numero perfetto per fare questo esperimento Con l'aranciata vediamo che reazione avrà E mi raccomando un bello like Grazie a tutti Esperimento italiano e siamo riusciti anche questa volta Se bagna ma non si asciuga E ora signori con le Mentos al variegato gusto nutritivo Le metteremo in questa sprite Una sprite italiana E quindi andremo ad aprire E a mettere queste sostanze italiane Grazie a tutti Non una, non due, non tre, ma ben cinque Mentos italiane Siamo con una marca Scrausa E' partita senza neanche che lo dicessi perché me ne è caduta una Ora signori con 5 Mentos colorate, non una, non due, non tre, ma ben cinque signori avete capito bene? Siamo con una marca Fake dell'Aranciata signori Grazie a tutti Grazie a tutti Ok signori, siamo con l'ultima e inaspettata bevanda che è una Pepsi da due litri signori Ora andiamo in una, non due, ma ben cinque Mentos e iniziamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti